Il sentiero delle operaie è il percorso che le lavoratrici dell'ex cotonificio Amman di Viale Martelli percorrevano per raggiungere la fabbrica e ritornare a casa. Un'altra perla che testimonia il passato industriale e manifatturiero di Pordenone, che sarà recuperata e restituita alla città. Il percorso ha inizio accanto al parco Baleno di Borgo Meduna. Si immerge nel verde vicino all'argine del fiume Noncello e sbuca nei pressi della Chiesa della Santissima e del ponte di Adamo e Deva. È stato un progetto travagliato e funestato da tantissimi imprevisti e problemi, e soprattutto quello di aver trovato dei rifiuti all'interno dell'area che ci hanno costretto ad un iter molto molto complicato. Classica questione italiana, la burocrazia poi ci mette sempre lo zampino. Ora però si può partire, nell'araco di sei mesi, a partire da ottobre Pordenone avrà un nuovo percorso naturalistico molto bello, altri ne verranno realizzati. Questo raggiungerà l'area della Santissima, poi l'altro progetto prevede il collegamento Santissima-Parcoreghena e poi Parcoreghena-Burida. Significa aumentare la quantità e la qualità dei percorsi naturalistici e pedonali della città che hanno lo scopo di abbellire Pordenone, di garantire un servizio ai suoi cittadini e anche di attirare turisti. Finalmente ripartiamo con i lavori per il sentiero delle operaie. Un iter oggettivamente lunghissimo, dovuto alle complicazioni sorte durante i lavori. Sono stati rimanuti dei rifiuti, questo ha dato avvio a tutta quella che è la procedura di un sito inquinato. Quest'iter si è finalmente risolto. Naturalmente ci sono state piccole revisioni legate al progetto. Fine ottobre partiamo e avremo in città un sito dove andare a passeggiare e che rispetterà anche durante i lavori la naturalità del luogo, il racconto dei periodi dell'edificazione, di tutto quanto deve essere fatto e l'attenzione che deve avere un luogo del genere. Un percorso importante per quella che è la storia di Pordenone, la storia industriale di Pordenone, che connetteva parte della città e lo restituiamo alla città non per lavorare ma per godere della bellezza del nostro fiume e di tutto quell'ambito. Lungo il percorso verrà anche riqualificato il vecchio lavatoio di via San Giuliano, raggiungibile da una scaletta che scende dall'omonimo vicolo che rappresenta un altro simbolo del passato della nostra città.